Alle porte dell'Università di Siviglia, nel sud della Spagna, inizia a radunarsi un gruppo di studenti. E' uno degli eventi di benvenuto per gli studenti Erasmus appena arrivati. Per molti di loro l'anno accademico non inizia con le lezioni, ma con questo tour per conoscere la città in cui vivranno per i prossimi mesi. Secondo l'associazione Erasmus Student Network, la Spagna è il paese con il maggior numero di studenti Erasmus, con 150.000 presenze solo quest'anno. Madrid è la destinazione principale con quasi 10.000 studenti, seguita da Barcellona, Valencia e Siviglia, che quest'anno è stata votata come una delle destinazioni più apprezzate dagli studenti. Le altre città più apprezzate sono Porto, Istanbul, Nicosia e Sofia. E' una città con la che realmente noi ancliamo molto bene la cultura spagnola e è anche relativamente barata per quello che un Erasmus può permettere. I ricordi per la finanziazione dei progetti Erasmus potrebbero avere una repercussione che che vanno molto più oltre all'ambito universitario, soprattutto nelle economie locali di città come Sevilla che vedono ogni anno come aumenta il numero di studenti Erasmus. Grazie al programma Erasmus, l'Università di Siviglia ha ricevuto quest'anno quasi 7 milioni di euro di investimenti. Le autorità stimano che altri 10 milioni di euro saranno immessi nell'economia grazie agli alloggi e ai servizi che la città offre agli oltre 2.300 studenti straniere. Io vivo in una residencia per i studenti e pago 700 euro cada mese e la comida per me sono meno di 100 euro cada mese. Viene molti studenti extranjero e consumen demasiado grazie a loro, grazie a la Università abbiamo qui abbastanza clientela e il negocio va super bene grazie a quello che consumen. La commissione bilancio del Parlamento europeo si è opposta alla proposta di tagliare 295 milioni di euro al programma Erasmus+, ma l'associazione Erasmus Student Network rimane preoccupata. La maggior parte degli studenti che vanno in Erasmus sono francesi, seguiti dai tedeschi e dagli spagnoli. Quest'anno si sono registrati quasi 400 mila partecipanti in meno al programma rispetto all'anno scorso. È la prima volta che i numeri scendono dopo la pandemia. Grazie a tutti.